Melissa, che cosa farai questo fine settimana con un sole che splende? Beh, sicuramente questo pomeriggio comincerò a studiare perché purtroppo a giugno ho gli esami. Domani invece, vabbè, dormirò fino a tardi, studierò e poi uscirò con gli amici per andare un po' in giro in centro, vedere qualcosa di nuovo. Però poi domani sera una festa e starò fuori. Domenica, visto che si presume ci sia bel tempo, penso che andrò a Venezia oppure a Ferrara perché sono città antiche e mi piace vederle. Poi con questo sole e questa temperatura meravigliosa è proprio il momento migliore per vederle. Poi non fa ne caldo, è troppo freddo, è perfetto. Sì, penso, cioè, andrò sicuramente con gli amici, così visitandola è più divertente, più entusiasmante, si vedono anche più cose. Sperando però ovviamente che non ci sono persone che non hanno voglia di camminare, robe varie. Sicuramente adesso con questo tempo è bellissimo anche vedere Padova e infatti lunedì non studierò niente, verrò qua in giro a vederla. Ma tu non sei di Padova? Sì, sì, sono nata qua a Padova e l'ho vista tante volte, solo che purtroppo ci sono alcuni posti storici che mi piacerebbe tanto vedere e che non ho ancora visto. Spero però durante quest'anno di proprio di vederli perché mi ispirano tanto. Grazie.